L'ha già cercata, ma ha avuto il telefono e studiata. Ha già saputo tutto cosa e c'è una domanda che l'ha già fatto. Pure tu. Ehi, pure io. E pensa che il medico ha questa domanda che la faccia prima che la troppe. E dici. Cioè, ma ci puoi stare a te o no? Pare che sì. E dici, ma... Come pensi che abbiamo fatto questa cosa? Che ogni volta che c'è un problema ci chiamano l'FBI, potete trovare? Mettiamo subito le cose in chiaro, Michele. Sono io che sposto te. E non la tua famiglia. Condividiamo il letto e noi gli affari che è già svegliata. E non ha già capito idea. E infatti, questa cosa la sapeva già. E non tengo niente di nuovo a te dicere. Ma il problema è differente. Il problema? E quale fosse il problema? Rimelo. Perché io l'unico problema che tengo è che i guardi si hanno mangiato 300 kg la cocaina mia. E io non li vedo altri problemi. A meno che non mi sbaglio. E vieni dall'affare tu e non ci vuoi trascinare. Ma il problema di noi è grosso assai. E se quando stai in tonira e poi si stai vicino al tuo malito a cercare consigli e tu scappi, gli pensi che io non puoi dimmiare niente. Perché l'amore prima di tutto resta è fatta la fiducia. E tu fiduci in me non lo tieni. come parla bella. Sai perché parla così bella? Perché tu sei nomma. E gli uomini tengono un vantaggio grosso. Tu ti guardi alle spalle continuamente. Ma non a casa. Per femmine è diverso. È completamente diverso. E la parte più enorme. Non si stava sotto. Ho buonanare. Ho buonanare. Ho buonanare. Ho buonanare. Ma tu mi dici che mi ami. E' la cosa più pericolosa, io mi metto da mangiare in capo, da andare a rimanere a rete, e tu diventi dipendente, debole, e se questo è quello che vuoi, hai sbagliato in questa parrocchia, Michele Tiene ragione, questo è quello che va succedendo a tutta la famiglia, la moglie era così, è quello che avessi avuto il padre nuovo a me, la moglie era successo di mettere in capo, a casa pensava di meno di me, e facevo tutto quello che volevi quando volevi, ma io ce l'ho avuto a te, e nessunato, ma io mi secondo la tutta la famiglia amico, tutta la forza che adeneva, e sai perchè? Perchè rinda sto monne monnezza, hai già visto una cosa che non aveva visto mai, una cosa che appellava, e che da cosa sei tu, faccio come ho tu, ma ricordo che quando si vuoi, il casto.